Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 4 km di coda per un incidente tra Calenzane e B1 Variante in direzione di Bologna. Regolare il traffico altrove. Per la cantieristica sulla SR65 della Futa, senso unico alternato in tratti saltuali tra i km 11,5 e 12,5. Ci troviamo all'altezza di Pratolino. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Fino alle 17.30 di domani, domenica 21 ottobre, la circolazione sulla Siena Chiusi è interrotta per lavori di sostituzione di una travata metallica. I collegamenti sono garantiti da un servizio bus sostitutivo che transita dalle stazioni di Asciano-Monte Oliveto Maggiore, Asciano, Sinalunga e Torrita. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Barcellona delle 13.25 al momento è segnalato in partenza e in ritardo alle 13.40. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!